Piccola cosa, è stato girato a veramente 100 metri da casa nostra, proprio di fianco al parcheggio, in provincia di Trento, Civezzano. È un paesino 700 metri in altezza, quindi inizio montagna. Ci piace molto il fatto che è proprio di fianco a casa questo bosco, che è un bosco abbandonato. C'erano dei terrazzamenti, ora invece sono acace, rovi, è proprio un bosco abbandonato, però è ricchissimo di vita. Ho piazzato lì la fototrappola e nel giro di una settimana ho ripreso cerbiati, volpi, tassi, veramente una vita incredibile per essere quello che per noi è un boscaccio senza alcun valore. L'orchidea selvatica parla il fiorese che ci siamo inventati in realtà per un motivo molto profano, cioè che noi non siamo né attori né non avevamo la possibilità di ingaggiare qualcuno che parlasse e quindi sarebbe stato brutto sentire una voce con una dizione magari errata o con un dialetto, una parlata. Allora ad Angelo mio marito è venuto in mente questa cosa di inventare un linguaggio e alla fine ci è piaciuto un sacco perché il fine giustifica i mezzi. Il fine era quello di non fare una cosa brutta e inascoltabile, invece è stato qualcosa di originale e simpatico e quindi ci siamo inventati questa lingua. Anche la voce, a dire la verità, è la mia, è un po' modificata e ci siamo un po' arrabbattati. Il messaggio è che tutti possiamo donare bellezza, c'è anche piccola cosa, è appunto una piccola cosa, è solo un fiore in un bosco abbandonato e la famiglia che lo sradica ci vede della bellezza, avrebbe fatto meglio lasciarlo nel suo ambiente perché quello è dove doveva rimanere, perché quando viene poi portato a casa muore, però il fiore appunto non se la prende, non è offeso per questo perché comunque sa di aver donato bellezza fino a quel momento e di aver fatto la sua parte nel mondo e si augura che tutti facciano lo stesso, cioè che ognuno di noi possa regalare qualcosa di bello al mondo.